Ciao sono Macraris. In questa lezione parleremo principalmente della manipolazione dei fogli. Prima di entrare nell'argomento principale vediamo come nascondere colonne e righe. Per nascondere le colonne C e D le selezioniamo, clic destro del mouse, nascondi. Appaiono in posizioni del separatore due linee verticali che segnalano che ci sono delle colonne nascoste. Per nascondere la riga 4 mi posiziono in corrispondenza della riga 4, clic destro perché è solo una riga, nascondi. Per scoprire una una riga nascosta seleziono la riga prima di quella nascosta insieme a quella successiva alla riga nascosta, clic destro del mouse, scopri. Allo stesso modo per scoprire delle colonne o una colonna nascosta, seleziono la prima colonna prima di quella nascosta e quella successiva alla colonna nascosta, clic destro, scopri. Per scoprire la colonna A non visibile in questo momento seleziono, mi sposto verso sinistra, mi riposiziono nella colonna B, clic destro, scopri. Lo stesso vale per scoprire la riga 1, mi sposto alla colonna 2, clicco sinistro, mantengo premuto, mi sposto verso l'altro, mi riposiziono in riga 2, clic destro, scopri. Ora passiamo alla manipolazione dei fogli. Alla creazione di una nuova cartella, CTRL N, scorciatore alla tastiera, abbiamo nella nostra cartella un foglio. Il numero di fogli che vediamo qui dipende dalle opzioni in file, opzioni, opzioni di Excel generale, alla creazione di nuove cartelle di lavoro, numero di fogli da includere, in questo caso 1 e se ne possono settare fino a 255. Ok, ci sono diversi modi di lavorare sui fogli. Il primo è, accedendo al menu contestuale, clic destro, il secondo, home, celle, formato, abbiamo una categoria organizza fogli, oppure combinazioni di tastiera e mouse che ritengo decisamente molto più veloce. Bene, rinominare il foglio, doppio clic, lezione 3, invio, creare altri fogli, premere su questo segno più, in alcune versioni di Excel è un'altra icona e abbiamo creato i fogli. Per migliorare la visualizzazione dei fogli possiamo assegnare un colore, lezione 3, clic destro, colore linguetta, mi seleziono verde, rinomino questo foglio, prep, invio, colore linguetta, formato, linguetta, altri colori, ne voglio personalizzare una, in preparazione, giallo. Bene, possiamo anche cambiare la posizione dei fogli, basta tenere premuto, cliccare e spostare nella posizione voluta, prep l'abbiamo lì, pure qui, e si possono utilizzare le stesse combinazioni di tasti control per selezionarne fogli non consecutivi, seleziono 3 e quando ho sposto, le sposto, le sposto assieme, oppure maiuscola, clic, maiuscola, clic di nuovo per selezionare fogli consecutivi e a questo modo si possono raggruppare e lavorare assieme su diversi fogli. per selezionare tutti i fogli, se ne ho pochi, posso cliccare, come abbiamo detto prima, maiuscola da tastiera e clic di nuovo sull'ultima, oppure posso accedere al clic destro, seleziona tutti i fogli, in questo caso ho i fogli selezionati, quindi posso separare i fogli per deselezionarli, oppure allo stesso modo posso cliccare, cliccare, seleziona tutti i fogli ed ho tutti i fogli selezionati, quando ho tutti i fogli selezionati basta cliccare in qualsiasi altro foglio non attivo e ho deselezionato tutti i fogli. Ok, avendo visto questo vediamo come si creano i fogli, è possibile anche cancellarli, se cancello un foglio vuoto elimina, nessun avviso, mentre se cancello un foglio con dei dati mi viene dato elimina, mi viene dato avviso che ci sono dati, quindi se sono certo di eliminare il foglio. Bene, vediamo un attimino la navigazione dei fogli, questo potrebbe essere utile quando abbiamo diversi fogli. Notiamo subito questi tre punti che servono per attivare il foglio immediatamente non visibile, in questo caso abbiamo tre, quindi se premo qui viene attivato il foglio 4 e il foglio 5 non è visibile, quindi e così via. Allo stesso modo abbiamo visibile, nel senso possiamo direttamente selezionare questi fogli, se clicco su questo qui viene attivato e spostato sul foglio immediatamente precedente al foglio 3, in questo caso è foglio foglio 1. Mentre invece questi tasti di navigazione servono semplicemente a navigare senza attivare. Posso eventualmente cliccare su tasto destro, appare questa finestra e scegliere quando ho diversi fogli e scegliere quali dei fogli voglio attivare. Ok, vediamo ora come spostare un foglio in un'altra cartella di lavoro. Abbiamo visto che per spostarli possiamo, semplicemente quando abbiamo pochi fogli, possiamo con le combinazioni di tasti CTRL, maiuscola, selezionarli e con il mouse spostarli nella posizione voluta. Quando abbiamo tanti fogli oppure vogliamo spostare o copiare un foglio con destinazione in un'altra cartella, selezioniamo il foglio, clic destro, andiamo su sposta o copia. Vediamo che la finestra di dialogo è sposta o copia. Nel caso in cui vogliamo copiare bisogna selezionare questa opzione. Nel caso contrario, quando spostiamo il foglio viene interamente spostato, quindi tolto dal foglio di origine e inserito nel foglio di, nella cartella di destinazione. Quindi come vedete sposta i fogli selezionati nella cartella. Possiamo scegliere di spostarle o copiarle nella stessa cartella, ma abbiamo visto che con la combinazione di tasti e il mouse è molto più veloce. Oppure possiamo scegliere la cartella in cui vogliamo spostarla, la cartella di destinazione. Se non ne scegliamo una, possiamo anche creare un'altra. In questa occasione Excel ne crea una in cui inserisce il foglio che stiamo spostando. In questo caso abbiamo già la cartella 1. Abbiamo selezionato la cartella e possiamo selezionare, questa è una opzione di precisione con cui abbiamo la possibilità di determinare esattamente dove posizionare il foglio. Ripeto, questo è molto comodo quando abbiamo diversi fogli su cui lavoriamo. Scegliamo di spostarle alla fine, clicchiamo ok e subito viene attivata la cartella 1 con in dentro il dato inserito. Bene, questa è una modalità per spostare. Possiamo anche, in questo caso, tra diverse cartelle utilizzare la combinazione di tasti. Per esempio, per spostare il foglio 3, mantengo premuto, sposto. Alt-Tab per selezionare la cartella in cui voglio la cartella di destinazione del foglio, scelgo la posizione e rilascio. E qui viene creato, viene inserito con foglio 3, barra 2, perché avevo già nella mia cartella di destinazione un altro foglio con lo stesso nome. In questo caso Excel lo rinomina con 2 di default per non creare conflitti. Ok, credo per queste funzionalità di aver fatto la panoramica di come organizzare il foglio, vedremo nelle lezioni più avanzate come il raggruppamento di celle permette di fare, di velocizzare alcune operazioni di calcoli. Grazie dell'attenzione. Per ricevere aggiornamenti su nuovi contenuti, registratevi al mio canale YouTube. Comenti e suggerimenti sono apprezzati. Sono MacRaris e a presto per la prossima lezione. Bye!